E ora passiamo allo sport. Parliamo di calcio. Continuano le problematiche tra la società sportiva Alba Alcamo e il comune. Il nodo principale della questione è la gestione dell'impianto sportivo Lelio Catella. Sentiamo un amareggiato Baldo Marchese, patrono dell'Alba Alcamo. Prima della festa della nostra padrona mi dovevo incontrare col sindaco, però poi a delegato al vice sindaco Ferro e all'assessore Lombardo, in cui noi chiedevamo la gestione del campo per renderlo possibile per poter cominciare la stagione. Perché in questi anni, l'anno scorso, due anni fa, Alcamo Calcio, prima dei primi di novembre, non è mai giocato nel suo campo. E' insostenibile una situazione di questa continuamente. La riunione com'è andata? All'inizio sembrava che erano propensi a dare le piccole richieste che chiediamo. Perché noi in questi tre anni di amministrazione surdi non abbiamo ricevuto nessun contributo, nessuna agevolazione, nessuna cosa. Abbiamo pagato i campi di allenamento, abbiamo pagato le partite, abbiamo pagato tutto quello che ci ha pagato con dei servizi. Molto spesso si andava a fare allenamento e mancava l'acqua. E noi dovevamo per vedere, per vedere, proprio insostenibile. Per questo abbiamo chiesto la gestione del campo, in modo che ci prendiamo le responsabilità noi. Se il motorino non funziona, ci pensiamo noi, perché è insostenibile fare un'altra stagione come nel passato. Giustamente un tifoso che prima era abituato, ai primi settembre, a andare a vedere la squadra, a conoscere i ragazzi, eccetera, eccetera, diciamo, perde pure l'amore che c'ha per questa squadra della propria città. E questo ci ha portato pure ad avere sempre meno tifosi a seguito. C'è un disinnamoramento della squadra. L'anno scorso sesti siamo arrivati, noi che abbiamo fatto così male, voglio dire. Qual è il punto adesso vostro? Da parte nostra, insieme con Peppe Melotta, abbiamo esaminato la situazione dopo il pic. Ci ha dato l'amministrazione, noi abbiamo scritto la squadra online, però ci tiriamo indietro. Dopodiché passa la palla al sindaco, quello che vuole fare nella squadra e ne fa. Se trova un altro imprenditore che voglia continuare la situazione, bene. Se la vuole far morire, si deve prendere la responsabilità, la fa morire solo. Buono.